Anessa questa sera contro il Sardana Monza è un'ottima grazia. Sì, una grandissima prova di squadra. Oggi veramente è stata dura recuperare le energie da domenica perché il tempo era veramente poco, vista la prova contro Chieri. Non mi aspettavo una partita del genere, oggi devo ammetterlo, sono ancora un po' stranita. Monza sicuramente senza oro era in difficoltà, non era nel suo miglior momento. Forse per loro era una partita che non cambiava molto dal punto di vista per la classifica. Invece a noi sono punti che fanno morale, danno soprattutto continuità al nostro percorso di crescita e a questa striscia che sembra per adesso non finire mai. Una partita combattuta punto a punto più o meno in tutti i tre i set? Sì, noi non abbiamo perso mai la calma. Ma questa è stata la cosa importante perché con dei battitori così forti potrebbe essere anche facile perdere un attimo le staffe e invece tutte eravamo pronte a veramente darci una mano. Magari se uno era un attimo in difficoltà le altre si facevano in quattro per aiutare nell'alzata, nell'appoggio, nell'attacco. Quindi c'è una tranquillità in campo in questo momento che veramente mi piace tantissimo. Bisogna tornare a lavorare per la prossima partita, domenica, contro Cuneo. Sì, domenica contro Cuneo, sempre qui in casa. Sono tutte partite toste anche perché c'è poco tempo per recuperare. Noi siamo lì, siamo ancora in gioco, avendo vinto contro Chieri oggi. Siamo ancora pronte per scalare la classifica, per cui mai dire mai. Ci prepariamo soprattutto alla Champions settimana prossima.